Su 163 maturandi al polo scolastico 2 Torelli di Fano ben 27 studenti hanno portato a casa un bel 100 di cui 8 anche con lode a questi vanno aggiunti anche i 19 studenti che hanno avuto votazioni comprese tra i 90 e i 100 componendo così una nutrita schiera di studenti che si sono distinti con voti eccellenti a questa tornata dell'esame di maturità. Il giorno del santo patrono per Fano il 10 di luglio sono stati affissi i risultati regalando così piena soddisfazione a chi aveva puntato a questo preciso obiettivo in tutto il percorso scolastico. Oggi per una rimpatriata collettiva parte di essi si è ritrovata per un ultimo saluto a professori e dirigente scolastico prima di intraprendere il percorso universitario. Allora tutti e tre mesi insieme siete un bel 300 tutti quanti avete fatto insomma un bel risultato contenti? Sì sì molto io personalmente poi non me l'aspettavo nemmeno però diciamo sono stato brillante all'orale e questo mi ha permesso anche di arrivare al 100. È stata dura? È stata abbastanza dura però nonostante ciò era un risultato che a cui aspiravo già dall'inizio dei tre anni quindi diciamo che alla fine il lavoro nel corso della carriera scolastica ci ha ripagato. Insomma non è una prova d'esame è tutto un percorso che bisogna fare per arrivare a prendersi? Sì è un percorso molto lungo ma credo che in realtà in questo ultimo anno siamo stati più professori a aver paura che noi perché nella paura di non aver fatto abbastanza di non prepararsi adeguatamente erano un po' in panico e quindi non ci trasmettevano tanta tranquillità ma comunque è andata bene quindi siamo contenti. Tanta fatica? Sì è stato faticoso ma comunque l'impegno è stato ripagato. Cosa ti ha spaventato di più all'inizio? Beh comunque l'esame non eravamo preparati abbiamo fatto qualche prova qualche simulata durante l'anno ma comunque farlo dal vero è tutta un'altra cosa. La seconda prova in realtà eravamo abbastanza preparati come classe perché abbiamo un ottimo insegnante di matematica e fisica però invece la terza sicuramente era quella che ci spaventava di più. Ovvia immaginiamo la soddisfazione anche del corpo docente che ha formato i ragazzi in tutto il percorso scolastico a cui spetta il delicato compito oltre che di formare anche di guidare i ragazzi nelle scelte che verranno prese dopo la maturità e dove le predisposizioni e le aspirazioni individuali hanno un bel peso. Sicuramente tanto impegno durante l'anno e un pizzico anche di fortuna durante le prove devono andare tutte bene e l'orale è comunque andata molto bene. In generale un anno molto soddisfacente. Sei appagato, ti appaga questo risultato? Sì sì sono molto soddisfatto comunque gli impegni che ho fatto durante questo anno sono venuti a galla.